E' stato arrestato dalla polizia per detenzione di arma clandestina e di altre armi provento di furto. Si tratta del pregiudicato niscemese Antonino Cannizzo, 28 anni. L'arresto nasce dall'attività investigativa degli uomini del commissariato di Niscemi per contrastare in particolare i furti in abitazione, l'ultimo in ordine di tempo commesso venerdì scorso ai danni di un anziano niscemese, nel corso del quale sono state sottratte, oltre a diversi monili d'oro e alla somma di 5.700 euro in contanti, anche diverse armi. E' stata anche la visione di alcune immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza a portare gli inquirenti a concentrare l'attenzione su Cannizzo. Infatti, la perquisizione domiciliare dello stesso ha permesso di rinvenire all'interno di un bagno, celata all'interno di un bidone aspirapolvere, una pistola marca Beretta, calibro 7,65, con relativo munizionamento e due coltelli da caccia custoditi in un unico fodero. A quel punto, l'uomo ha consegnato anche due fucili semi-automatici calibro 12, un fucile doppietta calibro 12 ed una carabina d'aria compressa, tutte armi provento di furto. Gli accertamenti sul numero di matricola hanno permesso di appurare che si trattava delle stesse armi oggetto del furto dello scorso venerdì.